Giovedì 26 ottobre sono le 7.30 a 25 secondi. Buongiorno Regione, ben ritrovati cari telespettatori e care telespettatrici. Tanti argomenti quest'oggi in apertura. Ci colleghiamo subito in diretta per continuare la nostra campagna tra cittadini e pubblica amministrazione. Quest'oggi parliamo di energia, di risparmio energetico. Ci dice tutto collegata da Sant'Orson, il Vicentino, Ivana Godring. Catella linea, Ivana. Buongiorno questa mattina, vi diamo il buongiorno da Sant'Orso, Alto Vicentino, territorio un po' a cuore di quella locomotiva del nord-est della quale tanto si è parlato in passato ma anche in tempi più recenti forse per la crisi. Dicevamo Sant'Orso, comune di 5.800 abitanti, una green community, una comunità verde come è stata definita perché qui il comune 5 anni fa ha deciso di aderire a questo pacchetto dell'Unione Europea 20 e 20, il titolo perché prevede la riduzione dell'emissione di CO2 entro il 2020. Per aderire a questo progetto il comune di Sant'Orso ha messo in piedi un sacco di iniziative, diverse iniziative, tra queste anche lo sportello Energia. Lo sportello Energia sede in questa bellissima villa dietro a me, ex proprietà delle lane rossi, oggi appartiene al comune. Qui c'è questo sportello dove ci sono dei volontari che danno informazioni utili, delucidazioni a chi effettivamente vuole capire di più, vuole capire di più in tema di pannelli solari ma anche di energia sostenibile, di adeguamento delle abitazioni a questo tema che è poi il tema del futuro. Questo così come introduzione e poi ci colleghiamo più tardi salendo dentro lo sportello. Ricolleghiamoci adesso a Sant'Orso per parlare di efficienza energetica. La linea ancora a Ivana Godnik. Sì, eccoci noi intanto siamo entrati qui nello sportello Energia del Comune. Sant'Orso, vedete, in realtà è una sala riunioni perché qui ci sono sia gli incontri di gruppo dove i volontari spiegano alle persone come funziona e che cosa bisogna fare per adeguare le proprie abitazioni all'energia sostenibile e ci sono anche incontri tra persone private e sempre i volontari. C'è con noi l'assessore all'ambiente Stefano Dalle Nogare. Come è nata l'idea dell'istituzione di questo sportello? Allora noi ancora qualche anno fa abbiamo aderito al patto dei sindaci e conseguentemente al PAES. Abbiamo capito subito che a livello comunale non potevamo da soli fare tanto perché le emissioni dei edifici pubblici sono solamente il 3% di tutto il territorio e quindi abbiamo tentato di coinvolgere i cittadini, i privati, i volontari, quelli che avevano queste caratteristiche che si sentivano legati all'ambiente e che hanno poi proseguito con questo cammino, diciamo. Di questo sportello noi abbiamo già parlato quando è stato aperto e allora vediamo questo servizio, questa scheda di Alessia Piovesan. Informazione gratuita su incentivi e offerte di mercato. Spesso chi vuole ristrutturare casa risparmiando energia grazie a pannelli solari o fotovoltaici ne ha bisogno. Dieci comuni dell'Alto Vicentino, Assiero, Breganze, Marano, Piovene, Rocchette, Santorso, Sarcedo, San Vitole, Guzzano, Tiene, Tonezza e Zuliano hanno aperto investendo 20 mila euro uno sportello energia, un punto di consulenza serale attivo dal 12 gennaio per un anno e gestito dall'Egambiente. Si può risparmiare molto e inquinare meno? Assolutamente sì, questo è l'obiettivo che si è dato all'Unione Europea con il 2020-20 e che i sindaci di questo territorio hanno fatto proprio. Si tratta di amministrazioni che hanno già aderito al PAES il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile per ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Sono 6.400 i comuni europei che lo hanno fatto, 3.200 nel nord Italia. Nel lato vicentino, capofila del progetto Sportello, è Santorso dove l'esperienza è partita già un anno fa. L'Europa dà dei target precisi, sollecita, una volta che uno si prende e sottoscrive degli impegni, mette a disposizione delle risorse e poi va a verificare se il lavoro è stato fatto. A dare il via a tutto un gruppo di acquisto solare, cittadini di Santorso che insieme hanno scelto aziende e prodotti una trentina gli impianti realizzati abbattendo i costi del 15%. Il vantaggio del gas solare è fondamentalmente quello di migliorare la possibilità di agire nei confronti del mercato. Non ti rivolge ad un fornitore unico ma si agisce tramite un capitolato e di conseguenza si ottiene un prezzo migliore. E hai la possibilità di scegliere, cosa che da solo come privato non avresti una cosa comparabile. Dunque il bilancio dopo questi due anni evidentemente è molto positivo perché questo è un riconoscimento che il Comune di Santorso ha ricevuto dall'Unione Europea. Vero Assessore? Sì, certo. Siamo stati in giugno a Bruxelles perché c'era una settimana per l'energia sostenibile e abbiamo ricevuto questo premio. È un macro riconoscimento. Invece com'è il bilancio qui all'interno del Comune? I dati all'inizio di quest'anno, in pratica fino a fine 2016, sono che abbiamo avuto più di un centinaio di contatti diretti con i cittadini, una ventina di impianti installati e una potenza installata superiore ai 90 kilowatt. È partito da pochi cittadini quindi, come avevo detto prima, e poi si sta leggermente allargando anche ai comuni limitrofi. Un risultato così positivo anche grazie ai volontari, perché questo sportello è gestito dai volontari. Quali sono le domande più frequenti che vi vengono rivolte? Normalmente quelle di carattere economico è logico che sia così. Di solito le persone vogliono sapere quanto costa l'impianto, quanto conviene, in quanti anni viene ammortizzato e quindi si rientra della spesa sostenuta. Poi ovviamente quelle che riguardano la fiscalità, tema altrettanto importante, perché gli impianti di questo tipo sono incentivati e possono essere detratti nella propria dichiarazione dei redditi. Di conseguenza questo consente di avere una maggiore durata e anche impiegare meglio i propri soldi. Claudio e Lisa, a Lisa invece chiediamo, quando uno viene qua vuole cambiare, vuole mettere i pannelli solari, come inizia questo ITER? Allora, qualsiasi cittadino arriva e viene da noi, viene allo sportello e chiede ho bisogno di un cambiamento nella mia casa, voglio fare una grande ristrutturazione oppure voglio acquistare una casa nuova, come faccio? Semplicemente ci viene a chiedere e noi cerchiamo di dargli più risposte possibili in merito alla sua particolare e specifica situazione. In chiusura, brevissimo il sindaco Franco Balzi, cosa succede adesso? Succede che da questa pratica partita da un gruppo di cittadini si è allargata a tutta la comunità di Sant'Orso e nell'ultimo anno abbiamo ricevuto un forte interesse anche dalle amministrazioni del territorio dell'Alto Vicentino, per cui oggi si può parlare di uno sportello energia di 11 comuni e si chiama sportello Alto Vicentino. Le parole che spesso utilizziamo, partecipazione, sussidiarietà, rete di comuni, in questo caso si sono concretizzate e direi che è una bella pratica. Da Sant'Orso è tutto, a voi studio.